E' una vecchia storia quella legata alla cosiddetta area lebole che sta diventando un vero e proprio fardello per la politica retina. Una questione ereditata che si trascina da quando Marco Carrara vinse il suo braccio di ferro con la cordata che vedeva come capofila l'allora presidente dell'Arezzo Calcio. Piero Mancini che avrebbe favorito l'inserimento delle attività che poi si sono realizzate a Foiano. Il sindaco Luccherini avrebbe visto meglio questa soluzione ma dava il dagno optarono per l'altra soluzione. Ma con il cerino in mano è rimasto il nuovo proprietario che ancora non è riuscito per varie cause a dare un senso compiuto all'investimento fatto. E la palla torna ancora alla politica. Fratelli d'Italia parla di sicurezza da salvaguardare ma il problema probabilmente non è solo quello. C'è una soluzione che riguarda tutta la zona, un progetto che possa recuperare l'agibilità di una parte di Arezzo che di fatto ormai è terra di nessuno. E nelle terre di nessuno è noto che la legalità non esista.